La senologia è la branca della medicina che si occupa dello studio delle patologie alla mammella. In Italia non c'è ancora una scuola di specializzazione in senologia, in quanto relativamente da poco si è capita la complessità dell'ambito seno e delle sue patologie, che interessano sempre più altre specializzazioni come l'endocrinologia, l'oncologia, la radiologia. Prima infatti il seno era di pertinenza quasi esclusiva della ginecologia, in quanto considerate organi principalmente femminili. Con il termine senologo si intende il medico, ma anche chirurgo specializzato in oncologia, che si occupa dello studio delle malattie con particolare attenzione ai tumori al seno. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. A seguito della consapevolezza sempre maggiore che le patologie al seno sono tra le più diffuse, ci si può recare dal senologo generalmente dietro prescrizione del proprio medico di medicina generale. Le motivazioni maggiori possono essere ereditarietà di patologie del seno, evidenziazione di masse dure a seguito di autopalpazione. I sintomi da non sottovalutare e da prendere subito in considerazione per richiedere una visita senologica sono dolore al seno parziale o diffuso, noduli avvertibili alla palpazione, mutazione del colore della pelle, secrezioni da un capezzolo, infiammazioni al seno, cambiamento del capezzolo. Stai cercando il senologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di UmaInnovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitari e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di UmaInnovation. Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto. Vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!